La questione degli LSU e LPU calabresi scalda la politica e il sindaco di Cinque Frondi, Michele Conia, uno dei responsabili del nuovo movimento Il Sud che sogna, lancia l'appello ad una mobilitazione generale a difesa delle categorie dei lavoratori più deboli, i precari calabresi, che da decenni vengono bistrattati dalla politica e che ha tolto ogni dignità a questi indispensabili lavoratori. Quando si pensa al popolo degli LSU e LPU, sottolinea uno dei portavoci del movimento, ossia il sindaco di Cinque Frondi, Michele Conia, non si può fare a meno di spostare l'attenzione verso il Sud e la cronicizzazione del precariato. La loro questione e gestione, sottolinea il primo cittadino, è divenuto oggetto di campagne elettorali giocate spesso sui bisogni delle persone con termini abusati o distorti, quali la cosiddetta stabilizzazione. E di questi giorni l'appello del sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, presidente del Lanci Calabria, sulla questione degli LSU e LPU e di tutti i precari calabresi. A questo esercito di lavoratori il 31 dicembre scadrà il contratto di lavoro, con serie preoccupazioni riguardanti i loro rinnovi e il proseguimento del loro contratto. Ministero e Regione Calabria lo scorso anno, a seguito di proteste e pressioni, hanno messo a disposizione le somme per la contrattualizzazione, che rischia però di saltare per i consistenti tagli da parte del governo. L'incoerenza di questo esecutivo, precisa ancora Conia, diventa più evidente quando lascia intendere di essere dalla parte dei più deboli, dei lavoratori e degli sfruttati, e contemporaneamente agisce al loro sapore in ogni ambito, ad esempio quando taglia 28 milioni di euro necessari per il rinnovo dei contratti, come se ciò non bastasse e mette poi a disposizione fondi che serviranno solo agli LSU, escludendo migliaia di LPU, come se per loro rimanere precari e senza certezze non fosse un problema.